Ma Camtasia? Si, è già aperto Benvenuti Professional E quello cos'è? Prima raggiorno eh E adesso è il nuovo giorno O se... O la ragazzina Ecco, e lì a sinistra Eccola, eccola, eccola Aspetta Questo è un bell'anime Guardatelo Fatevi un favore, guardatelo Holy shit, Colombino Quella bambina Per favore Fatemi un favore Ok, e basta Guardatelo tutti, guardatelo tutti Allora, trovate uno che siamo così evitati Tutto